Allora, Progetto Vita guarda sempre di più ai giovani, anzi ai giovanissimi e ci sarà poi questa occasione, la giornata mondiale del cuore, dove questo sguardo ai giovani penso che vedrà la pratica. Ci siamo voluti concentrare quest'anno proprio sulle attività dei ragazzi nelle scuole e dei bambini che sono oggi rappresentati dai bambini del terzo circolo didattico, perché sapete che da anni Progetto Vita insegna ai ragazzi a insegnare loro stessi ai genitori e ai loro coetanei come usare un defibrillatore, perché questo è l'unico modo per salvare vite dall'arresto cardiaco. Quindi in questa giornata mondiale del cuore abbiamo incentrato la nostra attività sul Progetto Vita Ragazzi e abbiamo cercato di coinvolgerli in un ambito così prezioso come quello della Prefettura, che ci permette di dare veramente tanto lustro alle nostre attività. Grazie. Grazie. Grazie.